Le leggende della musica è una nuova collezione lanciata in questi giorni dalla Royal Mint, la zecca britannica, e dedicata a quelle band e a quegli artisti che per attitudine e successo si siano distinti appunto in ambito musicale. I primi a debuttare con questa nuova collezione di monete per una serie che offre un ampio ventaglio di iconi, Sony Queen, la band che venne formata, venne fondata all'inizio degli anni 70 a Londra, una band che chiaramente ha vissuto sulla voce, sulla produttività, sull'estro ma anche sulla follia di Freddie Mercury e che in qualche modo con la scomparsa di Freddie Mercury ha visto la propria produttività scemare fino a spegnersi. La produzione appunto è decisamente interessante, si parte con la moneta possiamo dire più semplice che è quella che compare qui alla sinistra della schermata, la vediamo è una moneta in cupronichel in questa edizione, in questo formato, in questo cofanetto, in questo folder, in edizione non limitata, parliamo di una moneta di 28,28 grammi di diametro a poco oltre i 38 mm, una moneta che appunto in questa edizione costa 13 sterline presso la zecca ed è ancora disponibile e sostanzialmente non ha alcun limite di emissione. Altre tre versioni simili a quella presentata qui alla nostra sinistra sono state prodotte in edizione invece limitata a 25.000 pezzi, ma essenzialmente la moneta è la stessa, abbiamo detto 28,28 grammi, cupronichel 38,61 mm di diametro. Quindi altre tre versioni di questa stessa moneta con però, come dire, un cofanetto e delle foto differenti. Quello che appare più interessante sono dunque le versioni un po' più pregiate della moneta stessa e va detto che se il soggetto rimane identico quindi con appunto con questo con questo conio, con la moneta con scritto Queen sul rovescio e appunto gli strumenti musicali e un po' quello che è il logo impresso sul grande tamburo della batteria dei Queen, quindi rimane la stessa anche nelle altre traduzioni, è ovvio che nelle versioni più pregiate e qui ne abbiamo una per la quale faremo l'unboxing a strettissimo giro, sono più importanti. Diciamo che ovviamente la Zecca ne ha emesse ben due edizioni in oro, parliamo dell'oncia d'oro emessa in solamente 300 pezzi dal costo iniziale di 2020 sterline e non è più disponibile presso la Zecca, c'era anche disponibile il quarto di oncia sempre d'oro in edizione limitata da 1250 pezzi, costo iniziale, costo di emissione 500 di sterline che non è più disponibile, così come purtroppo, diciamo purtroppo perché chiaramente per noi è stata del raggiungibile, è l'edizione dell'oncia d'argento con ricami dorati da 90 euro e da 90 sardine di prezzo e da 7500 pezzi emessa. E minano a quella che invece è quella qui disponibile e lo è ancora sul sito della Zecca ma oltre il 70% del contingente originario di 17500 pezzi è stato già venduto. Andiamo a vedere quello che offre questo cofanetto che è decisamente bello sullo stile di quello che è un po' la produzione di questi ultimi anni della Royal Mint. Il cofanetto come detto, ecco, lo andiamo ad aprire, facciamo un unboxing dunque di questo cofanetto, sfiliamo appunto il box proprio della moneta, lo apriamo, come vedete qui compare appunto il logo dei Queen che è ben rinomato, lo ricordiamo su diversi album chiaramente della band londinese ed ecco qui la moneta che compare, compare chiaramente in questo ulteriore scatolina. Prima di vedere la moneta andiamo a dare un'occhiata anche a quello che è il libretto, come dire, artistico che accompagna la moneta, un libretto che ripercorre un po' appunto le vicende, i fatti chiave della band londinese, c'è chiaramente anche qui il nome e una descrizione di Chris Fasey che è appunto l'incisore della moneta ed è evidente appunto che questo qui è un libretto decisamente interessante per collezionisti davanti del genere. Poi chiaramente c'è il certificato della moneta stessa che qui compare con tutte le specifiche del conio, parliamo di una moneta da una sterlina e chiaramente qui c'è il numero di serie perché abbiamo detto che ce ne sono 17.500 in circolazione. Andiamo a vedere la moneta vera e propria chiaramente per chiudere un po' il cerchio, questa qui è la confezione che è decisamente bella, la vediamo, è accattivante questo tipo di confezionamento con questo coperchio in plexiglass e poi c'è, come dire, stampato in sfondo la forma del disco, del vinile. Vediamo che in questo caso si tratta di una moneta proof, quindi con finitura fondo a specchio ed ecco qui appunto la moneta una volta sfilata dal proprio contenitore, chiaramente eccola qui, bellissima, va detto, e dall'altra parte c'è ovviamente la regina Elisabetta, siamo al dritto, compare appunto a regina Elisabetta tutte le indicazioni per quello che attiene l'aspetto prettamente monetario. Moneta da una sterlina, battuta, cugnata nel 2020. Si tratta in questo caso di una moneta di argento 999x1000, quindi argento è sostanzialmente purissimo, parliamo di una moneta del diametro di 27 mm e del peso di 15,71 grammi. Una moneta, ripeto, bellissima, che vale la pena di inserire nella propria collezione, chiaramente come tutte le monete di questo genere poi la confezione è in qualche modo apribile e ulteriormente visitabile, ma chiaramente in questo contesto ce lo risparmiamo volentieri.